Il Movimento 5 Stelle boccia Renzi, alto che mille giorni, gli italiani dovranno pagare tra poco IRPEF, IVA, IRAP e Tasi. Bastano mille ore, 40 giorni, entro la metà di ottobre possiamo abolire l'IRAP per le imprese, sbloccare posti di lavoro, aumentare le pensioni tagliando quelle d'oro e soprattutto istituire un reddito di cittadinanza. Tutto questo creerebbe nuovi posti di lavoro per i giovani e salverebbe i cinquantenni che hanno perso il loro posto di lavoro. Tassa dopo tassa l'Italia affonda, rincarava dose Beppe Grillo. Grazie.